Gianmarco Mazzi, un indotto attraverso la cultura, attraverso gli spettacoli per far sempre più grande tutto il veronese nel mondo. Lei partecipa a questo? Sì, io cerco di dare il mio apporto, diciamo, perché credo che anche lo spettacolo, la cultura, le manifestazioni artistiche possono contribuire a questo. Quindi il fatto di scegliere iniziative e progetti che abbiano la valenza di portare molto pubblico da fuori Verona, magari abbiano anche la caratteristica di essere televisive. Ricordo che solo nel 2012 abbiamo fatto nove eventi all'Arena che sono andati in prima serata su Rai 1 o su Canale 5 e quindi sulle principali reti nazionali e questo viene fatto proprio per divulgare un'immagine nazionale e internazionale di Verona e contribuire così, diciamo, anche al turismo e a un aiuto alle realtà economiche che poi ruotano intorno all'industria dello spettacolo e della cultura. Farsi quindi che quando i nostri imprenditori raggiungono altre sfere fuori nazione siano comunque riconoscibili attraverso il marchio di Verona? Esatto, ecco detto questo probabilmente anche questo può essere un aiuto perché non c'è bisogno di presentare la città, ecco non credo che questo dipenda cioè è una cosa che esiste da centinaia di anni insomma perché Verona è una città importante però il fatto che sia quarta città per il turismo diciamo che noi contribuiamo, anch'io cerco di contribuire a fare in modo che questa forza nell'immagine rimanga e diventi sia l'arena sia la città una sorta di oggetto del desiderio di tutti i turisti italiani e internazionali.